I love to singa about the moon and the dune and the spring I love to singa about the sky of blue and the orange Ciao a tutti, oggi parleremo Di un film bello Di un altro film brutto No dai per favore per bilanciare un po' si deve parlare anche di film buoni Dopo il penoso Temesk 2 bisogna far scoprire film migliori dai Va bene, allora sceglite il film È un film a tecnica mista, ci sono i Looney Tunes Space Jam Filmone e un cult per tutti noi Em no, anche perché io ritengo Space Jam un film sopravvalutato Purtroppo la nostalgia lo fa elevare a capolavoro quando non lo è Un momento, aspetta Ritieni Space Jam mediocre? No, lo ritengo solo sopravvalutato Non ha una trama eccelsa Michael Jordan non sa recitare e si vede E come spesso dice Travata Non ha senso che i Looney Tunes chiedano aiuto a un giocatore di basket in carne ed ossa Per cacciare degli alieni animati Cavoli, sono animati pure i Looney Tunes E Bugs Bunny spesso metteva i bastroni tra le ruote a Martin il marziano Che è un alieno animato Poi non è credibile la cassa di Michael Jordan Uno che ha vinto tanto come lui penso possega delle ville e non la cassa da impiegato di banca Quindi il film di cui vuoi parlare oggi è Looney Tunes Back in Action del 2003 diretto da Joe Dante Ammetto di non averlo mai visto Partendo dal principio Com'è nato questo film? Bisogna dire innanzitutto che visto il successo del primo Space Jam Ovviamente la Warner voleva realizzare un sequel Si era già partiti dislegnando quelli che sarebbero stati i nemici dei Looney Tunes Che ovviamente avrebbero perso in una partita di palacanestro Ma visto il rifiuto di Michael Jordan di partecipare a questo film Venne cancellato Poi si pensò di realizzare un film con al centro il golf E a recitare ci sarebbe stato Tiger Woods O addirittura un film spionistico con protagonista Bugs Bunny e Jackie Chan Tutti i progetti non andati in porto Poi nacque Looney Tunes Back in Action Conosci il regista Joe Dante? Si ci vediamo spesso Mangiamo una pizza e discutiamo di cinema Detesta la pizza con l'ananas e adora il mare Intendevo se conosci la sua carriera cinematografica Beh prima ironissavo Si la conosco Ho un curriculum invidiabile da molti registi Non lo metto a livelli di registi come Steve Spielberg o Robert Semeckis Che comunque si hanno avuto modo di lavorare di più E hanno ricevuto più elogi Il suo film migliore se pensiamo di trattenimento Credo rimanga Gremlins degli anni 80 Un film che ha appresso molto È un oro per bambini molto riuscito Ancora oggi diverte Ha l'atmosfera natalissima che è una delle mie preferite E aveva degli effetti speciali ottimi Il sequel Gremlins 2 la nuova stirpe mi diverte ancora oggi C'è persino un cameo di Hulk Hogan Però a livello di trama lo ritengo inferiore al predecessore Però devo dire che ha comunque delle trovate geniali secondo me Di Joe Dante poi ho visto anche Small Soldiers degli anni 90 Che per molti rimane un cult Molto riuscito anche quello C'è poi anche da dire un'altra cosa Ovvero che Joe Dante è un grande fan dei Looney Tunes Infatti non so se ve lo ricordate Ma quando appare il logo della Warner Bros All'inizio dei Gremlins 2 la nuova stirpe C'è anche un simpatico cameo di Duffy Duck e Bugs Bunny Che litigano sul logo della Warner Bros Poi devo dire che ha diretto anche altri film molto interessanti Come Salto nel buio o L'erba del vicino Che purtroppo non ho mai avuto l'occasione di vedere E vorrei recuperarli Qual è la trama in poche parole di Looney Tunes Back in Action? Duffy Duck viene licenziato dalla Warner Bros Scopre a casa di DJ interpretato da Brandon Fraser Che il padre di quest'ultimo interpretato da Timothy Dalton È in realtà una spia E che vuole trovare e proteggere il diamante Chiamato la scimmia blu Dal presidente dell'ACME Interpretato da Steve Martin Partono quindi alla ricerca di questo diamante Poi si aggiungeranno Bugs Bunny e Kit Ogden Interpretata da Jenna Elfman E passando da Las Vegas, Parigi e poi in Africa Troveranno il diamante E dopo uno scontro con i cattivi salveranno il mondo Perché lo ritieni migliore di Space Jam? Mi pare di capire che lo trovi superiore al film con Michael Jordan Sarò sincero Come trama non siamo a livelli altissimi Però trovo che ci sia più rispetto verso tutti gli Looney Tunes Che sono loro Mentre nell'altro film venivano snaturati Poi ha delle genialate comiche e non comiche D'applausi Che a me inaspettati citazioni bellissime Per inciso la scena dei quadri all'uvo si mangia tutto Space Jam a mani basse Quali sono le genialate che hai più apprezzato? Tra le genialate di questo film quelle che appresso molto sono La velata critica all'industria cinematografica Basti pensare come sono rappresentati in questo film i fratelli Warner Che sono anche i produttori Che prima licenziano Duffy Duck Poi notano guardando come viene fuori il film senza di lui e lo vogliono riassumere La citazione a Psyco Il product placement della Walmart Quando sono nel deserto e credono che sia un miraggio E tutta anche una presa in giro dei product placement da parte di Giudante Il dialogo tra Wild Coyote e il presidente dell'ACME Che dice che i loro prodotti sono di qualità Che Wild Coyote non li sa usare E poi ovviamente la bellissima scena Louvre con i quadri Dove Duffy Duck, Buck Bunny e Taddeo entrano nei vari quadri Quindi c'è anche vari tipi di animazione molto carina quella scena lì Credo che rimanga la miglior scena di tutto il film Ha dei difetti questo film? Se ci sono sono talmente irrisori che non rovinano la visione Forse Duffy Duck nel complesso parla troppo E devo ammettere che lo sopporto meno rivedendo il film Poi forse dispiace vedere molti Looney Tunes nel ruolo di comparse Però francamente era difficile realizzare un film corale Con tutti i Looney Tunes che hanno lo stesso minutaggio E mi piace comunque vedere come protagonisti Duffy Duck e Buck Bunny Che sono i più amati E il fatto che il film parte sottolineando la rivalità Che c'è tra i due cartoni rimati mi è sempre piaciuto Sugli attori in carne e ossa Ad esempio Brandon Fraser cosa ci dici? Sono molto contento che in questo film ci sia Brandon Fraser Uno dei miei attori preferiti dell'infanzia Era protagonista di La Mummia e di George Ray della Giungla Sono contento che ultimamente si stia rilanciando Ha pure vinto un Oscar Perché ha passato un bruttissimo periodo Qua se la cava come anche l'attrice che però non ricordo più il suo nome Steve Martin come presidente dell'ACME mi ha sempre fatto ridere Già l'aspetto rimanda in parte a Dustin Powers A me non mi ha fatto questa impressione a me Ma poi si comporta a volte come se fosse un cartone animato Steve Martin anche lui attore della mia infanzia Anch'esso si è rilanciato però in campo televisivo Con la serie Only Mordes in the Building Battuta preferita del film Una delle mie battute preferite del film Quando DJ dice a Duffy Duck Che nei film della Mummia appare più lui che Brandon Fraser Un'altra è quando vengono mostrate le armi Per far fuori Nathan Drake i padri di DJ A un certo punto compare la doppia ascia della morte E presidente dell'ACME dice Oh guardate una doppia ascia della morte Non avevo chiesto una doppia ascia della morte È un'assaggerazione, toglietela Ma in realtà dovrei citare tutto il film Il film non fu molto apprezzato Vero, se la critica elogiò l'animazione e la comicità Criticò molto la trama Non fu il successo al botteghino E ciò portò a far lavorare sempre di meno il regista Joe Dante È secondo me un vero peccato Però noto che su internet ha i suoi fan Seppur siano in numero notevolmente più basso dei fan di Space Jam That's all folk